La vicenda della 14enne scomparsa da Monte Rotondo il 31 agosto scorso si è conclusa nel migliore dei modi con il ritrovamento della giovane. Questa mattina i carabinieri hanno ritrovato la ragazza in una residenza situata in Abruzzo nella provincia dell'Aquila. Fortunatamente la giovane si trova in buone condizioni e sta già facendo ritorno a casa. Il sindaco di Monte Rotondo Riccardo Varone ha condiviso la lieta notizia sui social media annunciando che è stata ritrovata e che la sua famiglia è in viaggio per riportarla a casa. La scomparsa risaliva la mattina del 31 agosto quando la giovane era scomparsa dalla sua abitazione a Monte Rotondo situata a una ventina di chilometri da Roma. Le autorità avevano subito ipotizzato che si trattasse di un allontanamento volontario concentrandosi quindi sulle ricerche nelle zone circostanti alle fermate degli autobus e alle stazioni ferroviarie. La madre della minore aveva segnalato la sua scomparsa ai carabinieri di Monte Rotondo dopo 24 ore dalla scomparsa scatenando una mobilitazione anche sui social media. Grazie! 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 Grazie!